Una cerimonia sobria e silenziosa, un rito che si è rinnovato nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus. Il crocifisso di Colonna è tornato a Trani ed è ora custodito nella chiesa di San Francesco. La traslazione del crocifisso in città è stata preceduta dalla cerimonia eucaristica preseduta da Monsignor Leonardo d'Ascenso nel monastero di Colonna alla presenza del sindaco a Medio Bottaro e di una rappresentanza del Comitato Feste Patronale. In un monastero blindato per impedire qualsiasi possibilità di assembramento e con attenzioni raddoppiate dopo la folla che ha accolto l'arrivo della Madonna dello Serpieto a Barletta, il Vescovo ha riflettuto sul momento attuale fatto di emergenze da quella sanitaria passando per quella economica fino ad arrivare a quella spirituale. D'Ascenso ha anche espresso l'auspicio di un futuro migliore, possibile anche grazie alle sofferenze che stiamo vivendo. Terminata la celebrazione eucaristica, il crocifisso è stato trasportato in città in un veicolo chiuso, in forma strettamente privata e non su un pick-up della polizia locale come inizialmente previsto. Tutto si è svolto senza intoppi ed il sindaco Medio Bottaro ha ringraziato la cittadinanza. Con un posto sul proprio profilo Facebook, il sindaco ha elogiato il senso di responsabilità dei tranesi, indicandolo come guida per affrontare nel migliore dei modi la fase 2, in attesa di poter tornare al più presto a vivere a pieno la solennità delle feste. Grazie a tutti.